Come eri bello qui, amore! Grazie! Cosa? Perché non abbiamo una foto di famiglia noi quattro? Ah, grazie che ti ho dato a mangiare tu a Dandy! Che diciamo mamma se ci chiede cosa abbiamo mangiato? Crocchette, ana tra riso e patate della linea Monge Natural Super Premium. Alimenti completi, sani e bilanciati, con carne fresca di altissima qualità e prebiotici naturali per la salute dell'intestino del mio migliore amico. Monge Natural Super Premium è una vera delizia anche per il nostro gatto dai gusti difficili. Tante ricette appetibili per ogni esigenza alimentare. Dai, rimediamo! Zorba me l'ha detto! Cosa? Mi fidavo di te! Dietro le storie più belle c'è sempre una famiglia. Monge, la famiglia italiana del pet food.